L'eliminazione dell'ego Sì Un buon compromesso Dell'ego negativo, perdonami la parola Esatto, diciamo se è possibile Prendere le distanze dall'ego Imparare a conoscerlo Osservarlo Mi ha dato un pugnetto Il maestro buddista a voi no Muschio seno Federico Muschio, microfono, videocamere e luci 20 minuti, un'ora di argomenti Impredibilità, giochi, irrepotenza, risate, pianti, rispetto, sincerità E approfondimenti, siamo negli anni 20 Muschio selvaggio Benvenuti a Muschio selvaggio, ragazzi Oggi puntata a tema maestro Abbiamo qui con noi il maestro Tetsugen Serra Buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio, grazie a voi A voi Volevo dirle, volevo iniziare Questa puntata Cioè volevo portarmi Una collana simile alla sua Che mi è stata donata L'ottoditi diamanti Dal Dalai Il lama Ganschen Il lama Ganschen Perché è stato esiliato dal Dalai Lama Perché lui promuoveva delle tecniche di autoguarigione Se non sbaglio Sì Diciamo delle tecniche di autoguarigione Seguendo una certa Chiamiamola divinità Anche se non ci sono divinità nel buddismo Che invece Secondo la tradizione del Dalai Lama Non è positiva E quindi era stato Marginato Diciamo È ancora È morto Lui è morto Adesso c'è Successore Però a questa cosa Dato vita È una cosa bellissima Non so se tutti lo sanno Ma L'unico Tempio buddista D'Europa È sul Lago Maggiore Fondato Dal No È un tempio apocrifo A questo punto È un tempio No, non è un tempio apocrifo Ma Non è l'unico Se no Il nostro Domettiero Ah ok, scusate Maestro Maestro Scusatemi Però è un bel tempio È un bellissimo È sul Lago Maggiore Certo In questo momento Dei nostri praticanti Che hanno fatto una via buddista Costruito una via buddista Che parte da Torino Poi partirà dalla Val d'Aosta E va fino a Roma Ma poi proseguirà anche fino a Palermo Sono esattamente in quel tempio Perché sono partiti due giorni fa E quanti tempi buddistici sono in Europa? In Europa Non li ho mai contati In Italia? In Italia Della portata di quelli Appunto che hai nominato tu Ce ne sono 4 5 Insomma Così Importanti Chiaro Chiaro Scusate Ho fatto una piccola digressione So che non era proprio Il modo migliore per iniziare No, no Non c'è modo Non c'è modo Io l'ho utilizzata molto per meditare Non so perché La mettevo Quando facevo meditazione trascendentale Tipico atteggiamento Da star Ok La meditazione Sì Beh Invece credo che sia Nel mio immaginario Le star a un certo punto iniziano a meditare Per Qual è il ruolo del È un'offesa star No, no, no Mi stavo offendendo No, no, no Non è vero Mi stava dicendo che siccome sono Un borghese annoiato Vado in cerca di pagliativi spirituali Questo lo state dicendo voi Ok Io dicevo che spesso le star Meditano Meditano Usano le campane Faccio notare con oggi Ragazzi c'è una mosca in studio Che cosa Era per distrarvi Giusto Per tornare sull'argomento Giusto Le vostre caricate dopo un po' Che ruolo ha nel buddismo La meditazione? Dipende un po' dalle scuole Ci sono tante scuole buddiste Un po' come il Scusate devo stare vicino qui No, non proprio così La via di mezzo buddista Esatto Le scuole buddiste sono numerose Ci sono quelle che hanno l'accento sulla meditazione Altre più sulla filosofia o lo studio O come la scuola che conosce Ci diamo del voi? Vabbè andiamoci del voi Del voi La nostra per esempio la scuola zen E mette l'accento sulla pratica meditativa Non solo Lavoro e meditazione Ora labora Ora labora Che tipo di meditazione viene fatta Viene praticata nel buddismo? Perché per esempio la trascendentale Che credo sia una delle più recenti forse Di forme di meditazione Fondata dal maestro Marishi Faccio una fatica con i nomi ragazzi Marishi Marishi Molto marketing oriented Mi viene da dire In America Americano Lui è diventato famoso Perché ha introdotto alla meditazione i Beatles Girava con la Rolls Royce comunque Il Marishi Vabbè che male c'è Nessuno ha detto niente E' importante che non gli cambiasse nulla Per non averla Ed oggi Ad oggi il più grande esponente della meditazione È David Lynch Quindi sempre nel mondo dell'arte E la meditazione trascendentale consiste con un mantra Che ti viene dato dal maestro di meditazione Che puoi sapere tu e tu soltanto Non puoi dire ad altri E devi sostanzialmente ripeterlo Cercando di far defluire i pensieri Mentre ripeti questo mantra È un discorso valido anche nella meditazione zen? No, è proprio l'opposto Meditazioni nel buddismo Ce ne sono tante MT, meditazione trascendentale Viene soprattutto dalle vie indiane Più che dal buddismo Anche se poi il buddismo ha preso dalle vie indiane La meditazione nello zen È una meditazione Che al limite può essere considerata sul silenzio Per cui o si segue il silenzio E quindi nel silenzio si fa il passo indietro Rispetto al tuo turbinio mentale Perché? Per cui si acquieta E poi si riprende con una lucidità superiore È come quando uno dice Devo riposarmi per averle dei dichiari Questo l'ho detto un po' semplicemente Per avvicinarsi Certo, per avvicinarsi Oppure è analitica sulla parola Per destrutturare tutti i tuoi concetti Tutti i tuoi preconcetti E lì si usano i famosi koan Le storie zen Forse ne avrete sentito parlare No, di cosa si tratta? No C'è una bottiglia Dentro la bottiglia c'è una papera Viva Beh, qui ci sono le vere Finché non controlli La papera è viva e morta Contemporaneamente No, non è il gatto Non è quantistico C'è questa paperotta Che è cresciuta dentro Ed è viva Una bottiglia un po' grande Devi tirare fuori la papera Senza rompere la bottiglia E senza uccidere naturalmente la papera Porca miseria Quante papere morte Immagino E quindi il lavoro È su questa E c'è una soluzione A questa La soluzione è quella che trovi tu Ok Scusi Ci può dare una soluzione Io sono per Ci potete 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 darci Potrei darvela Ma sarebbe inutile il koan Ok Provo Provo a dare una soluzione Medita Allora Io Prenderei dell'ottimo olio d'oliva Lo spargerei dentro la bottiglia la papera E piano piano la Il sedere della papera è troppo grosso Troppo grosso Non può passare dal collo della bottiglia Ah beh ce l'ho Ce l'ho Prendo un Martello No, mio papà faceva l'orefice Quindi esiste una pennina Che fa un piccolo Raggio Infocato Non bisogna Non bisogna ucciderla No no Infatti io incido Delicatamente Eh ma stai rompendo la bottiglia Ah devo rompere la bottiglia Non bisogna rompere la bottiglia Se no basta una martellata Tu come faresti? Orca puttana Innanzitutto comunicherei con la papera Per far sì che Non vada nel panico Direi calma Stai tranquilla Ci pensiamo noi Questa è già la meditazione Sì Primo stai a Dio No? Sì sì Manca la papera stessa Che l'aiuto a distendere un po' I nervi E Fisicamente Ce l'ho Farei sì Che il mondo esterno Che l'interno della bottiglia Sia il mondo esterno della papera Quasi Cazzo Cazzo C'è di quasi No no Quasi nel senso che È chiaro che trovando la soluzione così Poi piano piano Ci arrivi 180 Poi ci arrivi La 180 Però il punto è proprio quello La papera è già fuori Cioè sei tu Ah io sono la papera Sono di la papera Oh Non si può te la dire Ah bello Bello No no anzi 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 Ricollegandomi alla meditazione Mi par di capire che però Ci sia un fil rouge Tra tutte le forme meditative Che è sostanzialmente Il raggiungere una sorta di assenza di pensiero A me mi è stato spiegato Quando ho fatto il corso di meditazione Una cosa molto interessante Tra parentesi La meditazione In generale Credo che le meditazioni Siano stati fatti più studi scientifici Almeno credo Che non è il DMT No Le meditazioni trascendentale E Sono stato È stato proprio constatato Che c'è un Un utilizzo del cervello Proprio in termini di massa Sai La famosa ho detto Utilizziamo solo Il 20% del nostro cervello Adesso non so quant'è la percentuale Meditando Si utilizza molto Una porzione molto più ampia Di cervello E le frequenze cerebrali Aumentano a dismisura Diminuisce il consumo di ossigeno Il che porta Cioè comunque Ha una sua valenza scientifica Il meditare E tutte le forme meditative Cercano l'assenza di pensiero Cioè il ripetere il mantra O l'ascoltare il silenzio Verte a A sperimentare l'assenza Di Il vuoto Non so come dire Ed è interessante Cioè nel senso Qualsiasi tipo di forma meditativa Comunque ricerca Questo tipo di Di sensazione Infatti maestro Mi piacerebbe che Che voi affrontaste un attimo Con noi Come Come introdurre la meditazione A uno che non l'ha mai Approcciata Diciamo Soprattutto Posso aggiungere Che tipo di benefici Dà Perché io Per esempio Potrei testimoniare I vari benefici Che ho sfruttato Però insomma Vorrei chiedere Certo Ma Come introdurla Insomma È come fare una lezione Di pianoforte Insomma Non è che Sia sufficiente Una lezione di pianoforte Cioè non è tanto teorico È molto pratico Comunque Sì È molto È molto pratico Diciamo che Il punto Importante Sia stare tranquilli In un luogo tranquillo Dove non ci sono eccessi Né di musica Né di silenzio Né di niente Cioè una via di mezzo Come si dice nel buddismo E poi Soprattutto Imparare ad accettare Quello che accade In quel momento Perché è chiaro Che La nostra mente Il pensiero Si nutre di silenzio Se non c'è silenzio Non sorge nessun pensiero C'è solo caos Quindi Più sta in silenzio Più la mente Incomincerà a pensare A trovare A viaggiare E questo è un aspetto positivo Contrariamente a quelli che pensano No no Io non La meditazione non fa per me Perché io non riesco A star fermo con la mente Intanto proprio per quello Fa per te Ma poi Il fatto che si Portino pensieri Random Qualsiasi cosa sorge È un aspetto meditativo Non è il silenzio Giustamente come dicevi tu Non è il silenzio Del vuoto Nello zen si dice Q Che significa vuoto Ma in realtà Che vuol dire Vuoto di Concatenazione Di pensieri Per cui Tutto sorge E tu sei testimone A te stesso Questa testimonianza A te stesso Il risultato Quale può essere Che ti porta Ad avere Una lucidità Maggiore Dei tuoi pensieri Per cui Alcune Molte ti viene Da ridere Per quello che hai pensato O operazioni Che hai fatto Dico ma Come succede Dopo un po' di anni Noi diciamo Ma io ero questo Ho fatto queste cose Con la meditazione Questo diventa Molto rapido E quindi c'è quasi Una riscrittura Del tuo pensiero Della tua vita È chiaro che Richiede tempo E richiede anche Seguire Un po' La linea meditativa E questo A me No a me era stato fatto Un esempio Quasi pratico Visivo Che fa Magari Non so se può essere Calzante Anche su Una meditazione Buddista È come se Tu fossi Una Fossi Galleggiando sul mare Tu stessi Galleggiando sul mare E riuscissi In qualche modo A creare Un ecosistema Di pulizia Del pensiero E facendo Evaporare Di pensieri E riportando Lì giù E in qualche modo Ad andare sempre più In profondità Dentro te stesso E a un certo punto Perlomeno A me è capitato Di sperimentare Proprio l'assenza Di pensiero Perché vabbè Forse facilitato Dal mantra Perché ripetendo Il mantra Io percepisco Proprio L'andare In una profondità In cui Esiste solo Il mantra Ed è una roba Anche fisicamente E il mantra Lo ripetevi A voce No 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 Mentalmente Ok mentalmente Devi ripeterlo Però Non so se Influenzato Da questa metafora Visiva Del Andare in profondità Ma io Quando esperimento L'assenza di pensiero E ci sono solo Io e il mantra Io inizio a far così Cioè proprio Fisicamente Ad andare giù E quindi sono tipo Tutto un po' Gollum E vado proprio giù 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 Pazzesco Scusate Sì sì Ci sono questi Momenti Di assenza Che sono positivi Per quel momento Perché poi se uno Rimane così Naturalmente Non c'è bisogno Della meditazione Maestro Zendi C'è bastare un colpo In testa Uno O fargli un po' Di sparali Della morfina Esatto Quindi quello è un aspetto Poi Naturalmente Per tutto l'aspetto Fisico Ci sono tantissimi Il pH Delle urine Del sangue Le strutture Celebrali Cambiano Non soltanto A livello di onde Sviluppi Il lobo Sviluppi anche Il lobo frontale Si sviluppa Proprio come se facessi Palestra Per i lobi frontali Una consapevolezza Cioè una ricerca Della Della consapevolezza Un'altra cosa Un'altra cosa È Almeno me Così mi hanno detto Che in teoria Il buddì Ecco Introduco un altro Un altro argomento Che è il karma Il buddismo Fa del karma Una radice fondante Oppure no Allora Il buddismo Dipende dalle scuole Alcune scuole Fanno Della pratica Assolutamente No La via Del karma Carmica Per cui Praticano Per reincarnarsi In altre vite Migliori Con un karma positivo Nello zen No Il karma È causa D'effetto Immediato Non si crede Nella reincarnazione Perché io L'ho sempre trovato Profondamente ingiusto La credenza del karma Terribile Perché Perché tu immagina A me Mi è stato raccogliato Io ho avuto Questa piccola esperienza Tramite della meditazione Trascendentale Che si lega Comunque al karma E in teoria Tu Se nasci con un karma Negativo Meditando Dovresti riuscire Se sbaglio A riequilibrare Quel karma Ma se ci pensi Un'ingiustizia pazzesca Perché tu immagina Hitler Ok Hitler Una persona Di merda Possiamo dirlo Meditava poco Serenamente Meditava poco Non ha Severo ma giusto Meditava poco Lui Non lo so Ma insomma Tutti quelli intorno a lui Non dimentichiamo Che sono stati in Tibet E hanno preso Questo simbolo Chiaro Sì Alla svastica La svastica Che invece In origine È nell'altro senso È il simbolo di pace È il simbolo del sole E quindi di pace Non solo Libri sacri orientali Venivano dati in pasto Alle SS Per essere distruite Sì 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 Dei tentativi Dell'epoca Insomma Un po' fuori di testa Sicuramente Però Questo aspetto Bisognerebbe conoscerlo Molto profondamente Per cui il karma Ha anche una sua ragione Filosofica Così No beh certo Non ho finito il ragionamento Dicevo Ok tu sei Hitler Sei stato Hitler Io no Ti rincarni Ovviamente In cosa ti rincarni In una persona Con problemi fisici Mentali Di ogni tipo Non sei consapevole Di essere stato Hitler Stai pagando una colpa Di cui nemmeno hai coscienza In quel caso ci sarebbe Da prendersela Con chiunque abbia una sfida Mi sembra Nella prossima Nella vita precedente Cioè è terribile E la roba è caustica Ma infatti il karma Come origine Nasce dall'India Perché nasce Dalle cast E quindi Certo Quindi se sei in una condizione Di subalternità Non so se si dice così Hai la sua ragione Eri una persona di merda Eri una persona di merda Per questo oggi sei subalterno Sì sì è fatale È fatale delle cose Non ti puoi emancipare Della tua condizione È tremendamente razziale Beh allora La domanda Con cui avremmo dovuto aprire Forse il podcast È ci presenti un po' Il buddismo Perché io Francamente Mi reputo Abbastanza ignorante In materia Quindi come Come introdurrebbe Ad un pubblico La fede buddista La fede buddista Di base 2500 anni fa Qualcuno ha lasciato Ogni credenza Che erano le credenze Indiane Induiste Yogiche E altro E Ha voluto sperimentare Che cosa stava dietro Tutte queste credenze Dietro queste religioni Dietro tutto questo Questo Si chiama oggi Buddha Allora si chiamava Gotama Shakyamuni Poi Buddha È la radice sanscrita Di persone illuminate Mi sembra anche più semplice Da ricordare Rispetto al nome prima Gotama Siddhartha Tutti conosciamo Siddhartha Herman S Che ha scritto Siddhartha Certo L'ho letto Lui è riuscito A realizzare Che cosa stava dietro A tutto questo Quindi l'origine Non solo del sé Ma l'origine del tutto E poi è rimasto Si dice Un po' indeciso Per parecchio tempo Se trasmettere questo Se portare questo Alle persone Perché non era una dottrina Scritta Ma era esperenziale Quindi doveva portare Una pratica E aiutare le persone A questa pratica Perché raggiungessero Loro stessi Quello che oggi si chiama Nello Zen Satori O illuminazione O nirvana Nirvana Dopo un po' Ho deciso Che per compassione Verso tutti gli esseri Comunque ci doveva provare E allora Ha iniziato a diffondere La sua conoscenza Da lì A 2500 anni Naturalmente Ognuno L'ha letta L'ha presa E l'ha trasformata A propria immagine E somiglianza Seconda dei paesi Dove è arrivato il buddismo India, Cina, Corea Vietnam, Giappone Alle varie declinazioni Nelle varie declinazioni Come è stato Esiste Se io penso Nel cattolicesimo La forma più pura Rispetto alle scritture sacre L'interpretazione più pura È quella ebraica Nel senso Dove sono stati fatti Meno Traduzioni allegoriche E meno stronzate Messe su carta Si può dire Esiste Una Una declinazione più pura? No Una declinazione più pura Riconosciuta Non c'è Perché il buddismo Non si basa Sulle parole Anche se si basa Sugli insegnamenti del Buddha Certo da una parte Ma sull'aspetto esperenziale Quindi non c'è nessuna dottrina Non è una religione Ammesso che si Possa definire religione In Italia Riconosciuta religione Però Non sarebbe proprio Una religione È riconosciuta religione Quindi Cosa comporta Essere riconosciuti Come religione in Italia? Le tasse Esatto Stavo pensando Pagare le tasse Non essere esenti Ok Però pagarne meno No 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 Quindi devi pagare Due cose sono sicure Nella vita Non siamo esenti Come che è Morire e pagare le tasse E la fica Non è sicura Perché in America Per esempio Sono esenti Scientology ha fatto Una grande battaglia Per essere riconosciuta Come religione Per non pagare le tasse E lei che ruolo ricopre All'interno Diocesi Del mondo All'interno Del nostro pianeta Del nostro pianeta Allora Un po' di All'interno del buddismo In generale In Italia Sono un consigliere Dell'unione buddista italiana Quindi siamo Sette consiglieri E dirigiamo Un po' Tutti i centri Buddisti italiani Ma esistono Dei ruoli gerarchici Tipo il cardinale Il vescovo All'interno Di ogni Al di là Di questo ruolo Da consigliere Basta Ma all'interno Delle varie tradizioni La mia E la tradizione Zenna Che è nata in Cina E poi la mia E quella giapponese Esistono naturalmente Delle iniziazioni Dei ruoli Che hanno un nome Kokusai Fukiyoshi Dice ben poco Qui uno dice Maestro Se dovessimo Equipararli Se Più o meno Fare un parallelismo Col cattolicesimo Col cattolicesimo Io lo dico Ma Mi fa ridere E sarei un cardinale Un cardinale Perché Ordino Preti E monaci E da qui la domanda Mi sorge spontanea Come Come Com'è Seguire Una corrente Filosofica Però Diciamo Magari anche Erroneamente Inquadrata come religione Quindi diciamo Intraprendere Un percorso Religioso Diverso Da Da ciò Che parte Preponderante Dell'Italia Cosa significa Essere buddista E cosa ha significato Per te Per lei Per voi Essere buddista In un paese Fortemente cattolico Beh All'inizio Io sono stato Un po' di anni Insomma Più di quattro anni In un monastero Quando sono tornato Si parla Nella fine degli anni Ottanta Era sicuramente Abbastanza difficile Perché si era visti Come Delle mosche rare Come qualcosa Il buddismo Non era molto conosciuto Io parlo Dell'Italia Immagino Visti un po' naif Sì un po' naif Un po' new age Un po' Insomma Tutte queste cose Però Comunque Sempre tollerata Sempre tollerata Tranne Alcune istituzioni Che all'inizio Insomma Non tolleravano Faccia i nomi Se vuole Noi qui siamo aperti Sì sì Una volta La famiglia cristiana Ha scritto Che non dovevano Venire da noi A praticare meditazione Sempre i soliti Ragazzi E Con documento Cioè c'è ancora Certo certo Però poi Piano piano Col passare del tempo Il buddismo Si è conosciuto Sempre di più Anche in Italia E adesso C'è veramente Un accettare La pratica buddista Soprattutto mettendo L'accento sulla meditazione Come diceva lei prima Per cui Non è più così difficile Noi abbiamo Sei templi Sei centri In Italia E sono tutti Piuttosto frequentati Non posso far meno Di notare Che voi siete vestito Con un abito Ecclesiano E perciò ho preparato Rimanendo Esatto Ho preparato Una mini presentazione Molto breve Che bello Gigi Niente di Entusiasmante Abbiamo il nome Maestro Carlo Zendo Tetsugen Serra Monaco buddista La sintesi Che ho saputo fare E l'abito Fa il monaco La madonna Che reazione Mi ha fatto riderissimo Non te l'aspettavi È bellissima Ti ringrazio Io l'avevo già sentita Infatti Io l'avevo già Mi ha fatto riderle È una domanda vera Comunque Allora Come Come sempre No Pillola azzurra Finisce tutto Pillola rossa Stai nella tana Del bianconiglio Allora La prima risposta Che è quella Nel buddismo Si dice assoluto E relativo Questo è Il relativo La bellezza del relativo Però dietro questo Ci sta qualcosa Che può essere considerato Differente Quindi la prima risposta Che l'abito Fa il monaco Nel relativo Assolutamente Sì Quindi si è redpillati Nel buddismo Sì Beh che non è un male Io non ho mai pensato Ho sempre pensato Che io avrei preso La pillola rossa Sì La pillola rossa Sì Del matrix Però I buddisti Non fanno mancare niente Quindi le prendono Tutte e due L'aspetto relativo È che l'abito Fa il monaco Certo Se io venissi qui In giacca e cravatta Non mi diresti Che sono un monaco Giusto E quindi Che questo cosa vuol dire Vuol dire Che stare In un certo atteggiamento In un certo modo Di pensiero Così Questo fa Il monaco L'altra risposta Che è quella Più assoluta Insomma È che L'abito Non fa il monaco Niente fa il monaco Non c'è Il monaco C'è chi segue Una via E quindi Sì perché Poi Lo lascio dire a voi Però Nel buddismo Si segue Proprio una via Di Si tende a lasciare Tutto ciò Che non è Importante Si tende a Seguire l'essenzialità Certo Si tende a lasciare L'essenzialità Questo è Il buddismo È ancora Sinceramente Dicevo prima Bene Accolto Tante persone Praticano Ma C'è veramente Pochissima conoscenza Di cosa sia il buddismo Poi io posso parlare Solo dello zen Non voglio entrare In altre scuole Perché è come se Un cattolico Parlasse dei protestanti Dei valdesi Certo che tutti sappiamo Ma lasciamo a loro parlare Quindi Nello zen Sì Spogliarsi Arrivare all'essenzialità E allora uno dice Ah ma allora vivo dentro No Sull'albero La casa sull'albero La casa sull'albero Che stiamo costruendo Noi stiamo costruendo Non una casa Non una casa sull'albero E qui arrivo la risposta Ma addirittura un villaggio Un villaggio zen Tutto sull'albero No Ah ok No Pensavo qui Sarebbe stato Una figata Affascinantissima Stiamo costruendo Un villaggio zen Per gli artisti Poi se volete ve ne parlo Ma vorrei finirti La risposta Quindi è vero Andare all'essenziale Spogliarsi Ma la domanda prima di questo È che cosa è l'essenziale Che cosa è spogliarti Quello che è per te Non è per me Ma quello che è per te Potrebbe essere Considerato da te essenziale Ma di fatto non lo è Solo una tua costrutta mentale E quello che per me è Mi spoglio Mi spoglio Potrebbe essere una forzatura Invece soltanto da fuga Quindi il punto essenziale Della meditazione È proprio arrivare a questo Al proprio Essenziale Al proprio essenziale Senza illusioni E condizionamenti Perché io posso dire Per me Il mio È avere la Lamborghini È un abito su misura Cioè Su misura pulita Su misura pulita Certo Però A me mi viene Io Ho questa componente Fortemente anticattolica Perché in realtà Credo di avere Questo amore Amore estremo Per la chiesa Per i preti Soprattutto che mi appaiono Continuamente su TikTok E Però mi viene Mi viene da dire Che qui si coltiva Il reale Libero arbitrio In qualche modo Assolutamente Il bene Il male Nel buddismo Non esiste Come condizione Che bisogna seguire Assoluta Il bene Il male È avere La condizione La capacità Di capire Se la tua azione Causa ed effetto Procurerà sofferenza A qualcuno O procurerà sofferenza A te Quindi Tu sei responsabile E diventa tremendo Perché il bene O il male Quando è imposto Con un decalogo Sai dove stare E Stai nella linea Qui invece Devi essere responsabile Tu quindi Devi arrivare al punto Di avere coscienza Che quello che stai facendo Può essere sofferenza Per l'altro E per te No Quindi invece che bene E male C'è sofferenza E non sofferenza Mi sembra che invece Sia più responsabilità Cavoli Ho letto recentemente Un libro Di questo autore americano Che mi piace un sacco Sono questi libri Che in teoria Dovrebbero migliorarti La vita E devo dire Fa un discorso Molto simile Sul Il tema Della responsabilità Nel senso che Di come Viene concepita In maniera Sbagliata Nel Nel nostro mondo Cioè noi quando parliamo di Sono responsabile La viviamo come Non mi ricordo bene Come facevo Questa parte tagliavola Perché sostanzialmente Cioè lui collega La parola responsabilità Alla parola colpa Cioè Qualsiasi cosa ti accade In qualche modo È colpa tua Ma è colpa tua Come reagisci Cioè mi viene una brutta malattia È tua responsabilità Quindi è È tua responsabilità Reagire Se reagisci male In qualche modo È colpa tua La reazione che dai Ad un evento Di cui tu non hai colpa No? Sì 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 È questo Ma d'altronde La parola responsibility È essere responsabili Di quello Che si fa Avere la tua responsabilità Per essere responsabili Occorre uno stato Di pulizia Dei tuoi pensieri Della tua mente Perché se no Dici Ah io sono responsabile La vedo così Ma poi sono soltanto Tuoi attaccamenti egoici Che ti girano Credo che il discorso Fosse l'opposto Ovvero che noi colleghiamo La parola responsabilità Alla parola colpa Scusatemi Certo Perché quindi Sono responsabile Di un omicidio Sono responsabile Di un incidente Ma il tema è proprio Che non dovrebbe significare questo Cioè responsabilità è Come tu affronti Sostanzialmente Una situazione No? E quindi partire dal presupposto Che qualsiasi cosa Ti succede nella tua vita È una tua responsabilità È tua responsabilità Agire Come agirai Rispetto a ciò che ti accade Di cui non hai colpe È una buona filosofia di vita Non so come dire È rendersi indistruttibili In un certo senso Non so se rendersi indistruttibili O comunque distruggere Una bruttissima parola Ma chiarificare No? Un certo tipo di pensiero Che è un certo tipo di pensiero egoico Che è illusorio Assolutamente Va benissimo l'ego Va benissimo l'io Tutti ormai Siamo passati attraverso questo Però quando è in eccesso Non solo porta sofferenza a te Ma porta sofferenza anche agli altri Non è un'operazione facile Avere questa consapevolezza Però questa è la base del buddismo Riguardo all'aspetto di reazione Di responsibility Quindi dell'agire naturalmente C'è uno delle paramita Che sono delle vie da seguire Naturalmente Che sono proprio un aspetto etico Riguardo a questo Che non è scritto Ma è riguardo alla tua azione Come va? Cioè butto la bottiglia di plastica per terra Che cosa succede? È chiaro che se hai un aspetto egoico Dice ma cosa mi interessa Passo allo spazzino Pulisce No? Però Poi c'è una catena di cause ed effetto Anche l'effetto farfalla famoso Anche se è semplice Che ti coinvolge Assolutamente Per cui Hai una consapevolezza Che l'abilità Cioè la responsabilità Dell'azione è non buttare La responsabilità diventa colpevolezza Mi viene da dire No No Se hai visto come consapevolezza Iniziale No colpevolezza Sì sì No Se hai visto come consapevolezza Iniziale Della tua azione Non c'è un senso Di colpa Poi tutti abbiamo Sensi di colpa Non di colpa L'importante è Non rimanere prigionieri Da questi Beh mi sembra Una bellissima ricerca Della serenità Della libertà Sì Più che l'industria Industria Che hai capito? Sì È un po' quello che ricercano tutti Un po' quello che mi danno Le mie goccine Le tue goccine La tua nuova religione La mia nuova religione Devo dire La chimica È fortissima Un altro slide Prima parlavamo Delle due cose fondamentali Nella vita Delle due cose sicure Nella vita E la fine? E la fine Quando sono morto Mettete un frullatore Poi distribuite le ceneri Giusto Dio Giusto Vengo frullate le ceneri Il tema della morte Non è lo zen La via giusta Invitate un monaco Buttista tibetano Lo zen non si preoccupa Si preoccupa del momento presente Se noi dovessimo occuparci Parlo per lo zen Naturalmente Buddismo Se noi dovessimo occuparci Della fine Della morte Filosofeggiare Su tutto quello Che c'è dietro Perderemmo Il momento presente Quindi quello che ci interessa È il momento presente E ora A un maestro Che fu chiesto Ma che cosa pensa lei Dopo la morte Non lo so Non sono ancora morto Giusto Bello Però il Buddha Non ha mai ragionato Mi è capitato Recentemente Di interrogarmi Sulla morte Invece Non si è mai interrogato Su Il lascito In qualche modo Allora Del Buddha È stato scritto Di tutto Di più Come scrivono Sempre Immaginiamoci In 2500 anni Molto chiacchierato Questo Buddha Sì Molto Molto chiacchierato Sono state messe in bocca Delle cose Che Impossibili Non facciamo parte Neanche della sua cultura Ma Al di là di questo Tra gli scritti Che sembrano Insomma Più Conosciuti E più Accreditati Ci sono alcune domande Domande Del re Milinda Che Per esempio Davanti alla morte Allora arriva Poi Il solito re Che chiede Ma lei È un grande maestro Insomma Grandi discepoli Grande tutto Cosa Mi dice della morte E il Buddha Rimase in nobile silenzio E poi spiegò Non è che non ti risponda Perché non voglio rispondere O Ho O non ho La risposta E che non sussiste la domanda Perché la Un po' criptico Questo Buddha Beh però Si vede che il focus Vuole essere proprio sul presente Sul presente Il focus vuole essere sul presente E sul concetto Che non esiste Lo stato di morte Ma di trasformazione Lo stato di morte Perché pensa che gli esseri umani Siano legati a questa pelle A questo corpo A questa energia Nel buddismo Non è così Questo muschio Selvagio O meno Dietro È uguale a me È uguale a tutti In una forma Certamente diversa Ma Non ha differenza Tra me E l'universo E il pianeta Ben trato che abbiamo in comune Essere impermanenti No? Si L'impermanenza continua Certo Poi c'è che è più permanente O meno Questo è l'aspetto Profondamente ecologico Oggi Importante Insomma E Nello zen Sentite questo Un senso di dovere Di indottrinamento Dici? Proselytismo? Perché ha detto Avete detto Devo Beh diciamo Quello stesso bivio Che incontrò il Buddha Tra Certo Certo Ma uso la parola devo Perché Nel linguaggio Comune Ma non devo niente Non c'è proselytismo Assolutamente Perché io L'ho eliminata La parola devo Da qualche anno Nel luismo Non esiste devo No Neanche nel buddismo Esiste Il devo Se no Ci sarebbe senso di colpa Subito dopo Quando Non hai Giusto Giusto Il luismo È vicino al buddismo Forse un po' Di componente ego No no Sì Perché io Ho questo movimento Cosa sei Il posso Al contrario Cioè il voglio Voglio Io voglio Io non devo fare nulla Io voglio Che non cresce nel giardino del re Ma nel tuo terrazzo Nel suo terrazzo Solo da me Esatto Beh terrazzo è limitato Sì esatto No nel mondo No vabbè sì Comunque Niente Perché Mi interessa in realtà Il dovere Il volere Perché molti Soffro questa La condizione in cui molti Sentono di dovere Fare Di dover Andare Dover Alzarsi Ma questo è sempre nel mondo relativo Relativo non vuol dire illusorio Vuol dire nel mondo relativo della nostra mente Allora Devo Chi deve Ancora un concetto egoico Che vuole qualcosa Quindi quando tu elimini Anche questo devo Allora piano piano Non c'è più nessuno Che vuole Qualcosa Come quelli che si siedono in meditazione Dice Ah devo realizzare Voglio Fare Voglio Cioè è un concetto Talmente grosso Egoico Di volere Che è proprio quello che ti impedisce La pratica meditativa L'eliminazione dell'ego Sì Un buon compromesso De l'ego negativo Perdonami la parola Esatto Diciamo se è possibile Prendere le distanze dall'ego Imparare a conoscerlo Osservarlo Bum 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 Mi ha dato un pugnetto Il maestro buddista A voi no Questo era un po' egoico Siamo avere un pugnetto No 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 Tu se lo siete A me me l'ha dato spontaneo No l'hai alzato prima tu il pugno Sì però è nato spontaneo Io non l'ho chiesto L'ha chiesto lui Sì Sì ma Devi eliminare i tuoi demoni Devi imparare a gestirli Certo Diventano amici E che guarda Cavoli Mi rendo conto di essere un po' buddista Scusate un po' Adesso non è perché poi Ma Un po' buddista zen Perché se parliamo con altri Un po' zen Scuole buddiste Magari alcune cose che dico Se dovessero poi vedere questa puntata Ma voi siete il portavoce Di se stessi Di me stesso Sì Comunque mi ricordo Quando meditavo con la collana Dell'ama Ganken E poi avevo letto la storia Ganken Avevo paura Che fosse tipo una cosa un po' satanica E dicevo Cazzo me la metto Poi prendo delle energie strane Infatti adesso ce l'ho C'avevi paura che Che E non lo so Perché comunque C'è stato un periodo Ti ricordi che giravo sempre con sta collana Sì E ce l'avevo sempre su E lo usavo soprattutto per meditare Poi mi sono guardato tutta la storia Che è super interessante Perché il litigio Tra 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 lama Che fai Il litigio tra lama È l'opposto del litigio tra lama animali Cioè non è una Una cosa di sputi Una cosa ovviamente È un litigio molto Pacato Non so come dire Cioè nonostante ci sia stato un esilio Molto filosofico C'è stato un esilio Però Cioè comunque Comunque anche C'è un dialogo Un scontro dialettico Nel perimetro Nel perimetro della società civile Però Mi sono stupito Che una diatriba Si sia conclusa Esattamente come una diatriba Tra Gentiluomini Egoici Non so come dire Cioè quindi con un esilio No Il buddismo tibetano Ha una Componente Ha una pratica Che è molto Sul dibattito del dharma Lo zen Ce l'ha in modo diverso Attraverso i koan Perché quei koan Che dicevo prima Poi ogni mattina C'è Il colloquio privato In una stanza Che si chiama Stanza della morte Morte dell'ego E si porta La risposta Al maestro E se la risposta Non è quella corretta Naturalmente non c'è La risposta La risposta vuol dire Per te Deve essere realizzata Così se non c'è Il giorno dopo Ti mena Beh sì Sappiamo che adesso Non si fa più Che nello zen Insomma si usava Il kiyosaku Cioè questo bastone Ah ti mena davvero Hai visto Tornando Se si può Sì sì Al discorso di prima Che dicevi I buddhisti Soprattutto della linea tibetana Varajana Che si chiama così No li che mi hanno tibetani Ma hanno un loro nome Come lo zen Si addestrano proprio A questo scontro dialettico Scontro di Dharma E c'è tutta una scuola Ed è molto bella Molta scenografica Dove uno dice No? Tipo una gara di freestyle Sì sì una cosa così Ed è anche molto fisica No? Sì sì Bello Forca troia C'è un dibattito Dove Mi è Mi è Mi è Mi è Mi è scatenato qualcosa Questa cosa Ma c'è una bella reazione Che cos'era questa cosa Che ha fatto? Quando si parla di battito Quando si fa il dibattito Bisogna coinvolgere È dibattito È dibattito Bisogna coinvolgere il corpo Mente corpo E coscienza O spirito Come qualcuno lo chiama È una cosa unica Per cui fare un dibattito Nel buddismo Certo Poi anche ci sarà Ma fare un dibattito Perché la visione È del nostro Buddha No no Solo nelle interviste di Dikele Succede questo Esatto E c'è un vincitore Sì C'è un vincitore Quando l'altro Non sa più argomentare No Né fisicamente Né tutto il resto Ah bello E il pubbattuto Nel dibattito Sploo Bellissimo Andrebbe Invece l'aspetto di Fisicità Viene coltivato Nello zen Un aspetto Atletico Atletico Non so No no Egoico Egoico No assolutamente Non è egoico Perché mente corpo Spirito Sono spirito Inteso come coscienza O come volete chiamarlo voi Insomma È un'unità Per cui il corpo Sempre richiamo Allo zen Naturalmente È consapevole E deve essere consapevole Anche il corpo Per cui Non è certo Coltivare il corpo Come possiamo pensare noi Ma non è da abbandonare Abbandonare il corpo Non è Mi chiudo nella privazione Negli stenti Perché così Il mio stato di coscienza Diventa superiore È uno stato egoico Quindi perdo l'aspetto del corpo È tutto in equilibrio Mi sembra No? Sì Si chiama la via di mezzo Nel buddismo Si chiama trovare un'armonia Rispetto a tutto questo Come il discorso dell'ego Quando superi la soglia È chiaro che prima o poi Arriva la sofferenza per te E per gli altri Se stai dentro la consapevolezza È assolutamente importante Certo Parlo dell'ego consapevole nostro Non degli istinti di sopravvivenza Certo Perché se arriva un mattone Che sta arrivando dal terzo piano Cioè è difficile Certo Mi viene da dire che è come se il mantra fosse Il troppo stroppia Il... Sì Sì Però anche qui è... Dipende Ma dipende cosa significa troppo poi Il troppo per te Stroppia Dipende da cosa significa per te E il scontesco Scusi Sto facendo Però in questo caso Mi potrebbe anche giustificare Le azioni di un Hitler Perché se per lui Quella cosa lì Lo faceva star bene Idealmente Cioè non è che giustifica Ciò che fa No perché è uno stato egoico Che ti fa star bene Però magari lui Era in equilibrio Sì Però coinvolto Sto ragionando per assurdo Scusate amici No no ma questo è utile invece Grazie Perché è un'ottima domanda Perché la maggioranza delle persone pensano E' già due Le leggo La maggioranza Sì La maggioranza delle persone pensano Ah la via Parlo via buddista O comunque la meditazione Serve a raggiungere La felicità A stare bene Cioè se fosse quello Lo scopo finale Non c'è bisogno di praticare meditazione Goccine raga Esatto Ci sono tante cose che portano A quella condizione Quindi Per una persona Che agisce No E crea sofferenza Verso gli altri È uno stato di inconsapevolezza La sua Cioè non si rende conto Come la maggioranza delle persone Non si rendono conto Di provocare sofferenza Agli altri Poi quando glielo dici O quando li aiuti Ad avere consapevolezza È talmente Forte L'attaccamento Che non riescono A liberarsene La grande paura Della meditazione È Perdere un'identità egoica E dici Vabbè adesso Chi sono Invece È il contrario Scopri realmente Chi sei Vai nella tana del bianconiglio Ed è grandissima Scopri veramente Chi sei Perché forse Si tende a non voler sapere A proposito di tana del bianconiglio Vado un attimo fuori da questa roba Magari nascono argomenti Ho visto Matrix nuovo L'avete visto? No L'ultimo Mi è piaciuto molto Devo dire So che ad alcuni Non è piaciuto Però è super interessante E mi sono preso male Io quando guardo questi film Non c'è spoiler vero? No non c'è spoiler Quando guardo questi film In cui Ciò che è In realtà non c'è È come Inception Minchia raga Mi manda troppo a male Mi manda troppo a male Ho camminato per New York E sai quando vedi un po' Fuscato Poi avevo le mie goccine Quindi Sti cazzi Però È iniziata a rivalutare Se fossi nel mondo reale Eh beh Perché comunque Cioè anche se questo è il mondo reale La società civile in cui viviamo Comunque È un costrutto Cioè comunque viviamo in una cosa artificiale Capito? Sì ma infatti In questo viene Anche negli altri Ma viene citato credo Quattro volte lo zen Nel Matrix Può essere Sì è vero Ma con chi è che ne parlavamo? Con Forse con Boeri Che l'architettura è comunque Cioè noi abitiamo nelle città Che sono tanto vere Quanto comunque Finte Sì che plasmi la realtà Plasmi la realtà L'architetto crei un ambiente Dove sei totalmente immerso Infatti È aumentato In Matrix C'è l'architetto tra l'altro C'è l'architetto È super appassionato di Matrix o sbaglio? Come mai? No di cinema Nella mia precedente vita Non vita passata Ma di gioventù Mi occupavo di cinema Eh lei adesso Scusi faccio una domanda Magari mi mandi a cagare se vuole Il suo lavoro è questo Sostanzialmente Il mio lavoro è questo Spero che non sia una carriera Ma è il mio lavoro Sì E ho visto che produce anche su YouTube Infatti appena siete entrati Ho notato che avete notato le telecamere Quindi si vede che vi occupate Ma questo risale a quando mi occupavo di cinema Ok curiosità E però producete Ho visto che producete delle guide anche in diretta su YouTube Guida alla meditazione Si può chiamare così Sì sì Ci occupiamo naturalmente di YouTube Di tante cose Adesso stiamo progettando con Oculus Una pratica meditativa Bello Oh Bello A proposito di realtà aumentata Di mondi Anche se secondo me Meditazione analogica È la migliore No? Beh ma sono Nel buddismo si chiamano upaya Cioè mezzi opportuni Certo Quindi un mezzo opportuno Per arrivare a un certo tipo di persone E per avere un'immersione Nella realtà Anche se è virtuale Poi mi spiegate che cosa è virtuale Che cosa non è come realtà Certo E può essere sicuramente utile Quindi stiamo studiando questo Percorso meditativo Un po' come un videogame Dove il monaco è fuori Nella tradizione Devi aspettare tre mesi Fuori Pioggia Vento Sole Poi vieni ammesso E poi ti bastona E poi vieni usato Ti vieni bastonato Certo Vieni bastonato Con il kiosaku Poi vai dal maestro Devi risolvere i core Praticamente fight lab E questo sarà E poi la possibilità di interagire Anche direttamente Metteremo una 3D Nel nostri templi In modo che uno Da qualsiasi parte del mondo Che non può venire Si collega direttamente E fa meditazione Bello Molto immersivo Veramente immersivo Infatti Io ho usato un'applicazione Di meditazione Nel visore Che però usano le musichette È vero Io odio Quelli che usano le musiche Non mi ricordo il nome Però mi ricordo Ci sono tante immagini Che ti fanno andare Ci sono un sacco di app Molto psichedelica Esatto Che si fluttua E si attraversa Questa sorta di tunnel E ti dicono cosa fare Non ce ne so Stranamente Io ce l'ho Da pochi mesi Stranamente Non ce ne sono tante Di applicazioni Forse abbiamo usato la stessa Sì Con la respirazione Che entra Esatto Entra Di teperoculus Però Perché di app Per il telefono È pieno No Per il telefono È pieno Ma no Sto parlando di Oculus Questo della meditazione Proprio questo Che stiamo dicendo Non diciamo un nome Ma intanto è molto a psiche Va bene Perché è molto psichedelica Molto bella E poi questo della respirazione Che stiamo studiando Qualcosa di un po' più interessante Perché in realtà Se tu muovi la testa Quello continua Quindi non è la tua respirazione È tutto pre Invece Registrando Perché è possibile La tua respirazione Il tuo battito cardiaco Si riesce a visualizzare Realmente Che cosa succede E dal tuo grado Di immersione Poi andare avanti Nella pratica Che aiuta proprio a vedere Come di solito Bisognerebbe immaginarsi Nel È bellissimo Comunque meditazione Io consiglio a tutti Qualsiasi tipo di meditazione Ci sono anche Devo dire Il mio psichiatra Nel suo studio Applica Perché credo forse Quella Dopo la trascendentale Con più valenza scientifica Non ne ho idea Del motivo Quelle guidate Quindi quella che c'è Un terapista Che ti fa chiudere gli occhi E ti dice Viaggio Però a me non mi piace Ognuno ha la sua È come prendere un bambino Insomma Se tu hai figli Mi sembra Giusto? Sì Non so se sono miei Ma sì Beh comunque Hai in casa dei bambini Sì Quando li prendi piccoli Per mano Li aiuti a camminare Poi li lasci Quelli li incalciano il culo E gli dici Vai Vai a scuola Bastone E però la sicurezza Che gli hai dato Aiutandoli a camminare Rimarrà tutta la vita Quindi anche nella meditazione È importante andare per gradi Serve un maestro E la respirazione Anche questo è forse sottovalutato Ma la respirazione Nella meditazione zen È importante? Sì È importante perché sei in vita Quindi non respiri buono Esatto Naturalmente Diciamo che i primi momenti I primi minuti di meditazione È molto importante Perché la respirazione Regola il flusso del sangue Regola il flusso cardiaco L'ossigenazione Vuol dire pensieri Perché il cervello Infatti bisogna raggiungere Il livello di ossigenazione basso E anche di respirazione Sì Come sempre Cubi Insomma Quanto basta Perché Sì sì Come in cucina Come in cucina Esatto A cubetti La cosa importante È non sempre Io parlo per lo zen Non rimanere intrappolati Da questo Allora ci possono essere anche Periodi in cui tu ti occupi solo Della tua meditazione Perché se no vai fuori di testa Seduto in meditazione E allora va benissimo Seguire la tua meditazione Però il primo passo Il primo step Dopodiché se rimani ancorato C'è ancora qualcuno Che vuole rimanere ancorato Per sicurezza Per raggiungimento Quindi diventa Controproducente la meditazione Ci fa un po' di Come si chiamano Questi indovinelli C'è questi indovinelli I co-an I co-an Ci fa un po' di co-an Vediamo se qualcuno Vediamo se ci si arriva Allora c'è un maestro Che è appeso A un albero Maestro tipo lei? No io sono Tetsuge C'è un maestro Che è appeso all'albero Così? Così A un ramo? Sì Ok così Così E le mani Non arrivano Agli altri rami I piedi Non arrivano Agli altri rami Ok Sotto Passa una persona E chiede Ma qual è la verità? Se il maestro Non risponde Non assolve Non risponde alla domanda Non assolve Il suo compito Che è quello Di aiutare tutti gli esseri Così Se apre la bocca Cade E lo uccide E muore Ah ma non muore anche l'altro Ah non cade sopra l'altro Non è contemplato Nella storia Beh perché sarebbe meglio Perché fa del male così E no perché allora La risposta sarebbe Sta zitto Così non cadi addosso l'altro Giusto Ok quindi no Quindi no E la domanda è Quindi tu cosa faresti? Beh io per perseguire In veste di maestro In veste di maestro Per perseguire ciò che il Buddha Aveva fatto Rispondo e muoio Se apri la bocca Cadi e muori Non puoi rispondere Ma come no Veloce Faccio la verità La verità è questa Boom E muoio La verità è questa Per seguire Proprio io Fa il gesto del passa dopo Col dito Tipo Aspetta l'ultimo Allora 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 me ne andrei con stile E gli direi Coglione non vedi che ero attaccato al ramo E poi muoio Ti sembra il momento Ti sembra il momento Tu hai animali in casa? Sì ho un cane Che ha avuto un tumore al cervello Tutto Che è più di là che di qua Un altro con No aspetta Aspetta Facci pensare su questo Aspetta Allora Allora torno No 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 Perché? Innanzitutto Noi non sappiamo Se il maestro Non sa Il significato Il linguaggio dei segni No No Ok Che sappia o non sappia Ok Quindi lui gli dice La verità Ma conosce la risposta Di maestro Conosce la risposta sulla verità L'enunciato è questo Tutto quello che sta dietro E sta davanti Non è importante Se no certo Può essere di tutto Eh Ce l'ho raga Kaby Lame Dai che cos'è È la verità questa Vai io sono il maestro Qual è la verità Indica Però cosa indica Cosa sta indicando L'albero Questa Eh ma è quello che è sotto Capisce Capirà Beh così capiamo No Cavolo Trippy Tu non lo sai La mattina alle 5 e mezza C'è Doxan Si viene a portare la domanda Vabbè un'altra Dai un'altra Un'altra un po' Cioè Non ne abbiano a male Gli animalisti Perché non è così È volutamente così Volutamente trucida Esatto Ok va bene Abbiamo fatto il disclaimer Arriva Questo maestro Che vede due monaci Insieme ad altri monaci Insomma Si era Creato una fazione Due fazioni E stanno discutendo Sulla natura di Buddha Cioè sull'essenza Dell'umanità Dell'universo Natura di Buddha Si intende questo Non del Buddha In quanto storico E hanno questo gatto in mano Dicendo se questo gatto Aveva la stessa natura di Buddha Cioè se anche lui Era l'universo Come il muschio Come qualsiasi cosa Il maestro Sta un po' a osservarli Poi quando vede Che non ne vengono a capo Afferra il gatto Afferra un coltello E dice Cos'è la natura di Buddha Se mi rispondete Lascia andare il gatto Se non mi rispondete Taglio il gatto in due Nessuno rispose E lui tagliò il gatto in due E qual è il Kohan? Il Kohan è la risposta Che risposta avresti dato? Ah Qual è la natura di Buddha? Cioè che cos'è l'uno Che cos'è l'essenziale Che cos'è la totalità Per natura di Buddha Si intende questo Chiaro qui ci sono Tanti aspetti simbolici Che sono dovuti Come rappresentazione All'aspetto dualista È ciò che per me è Sì Quindi mostramela E non Il fatto che Persa Persa Aspetti Persa Cosa persa? Ho già tagliato a metà il gatto? Sì No Strappare il gatto dalle mani È ciò che per me è Sono io Eccomi Quasi la risposta di un maestro C'è una risposta senza senso Qualsiasi cosa è Capito? Se tu cerchi di dire È Quindi poteva fargli così in teoria? Sì Ok Il giorno che ve lo chiederanno Farò È chiaro che questo coin è presentato Sull'aspetto dualistico No? Quindi le due fazioni E invece il gatto Che è uno E loro stavano a discutere Avendo davanti già la realtà Dell'uno E lo stesso il maestro Li mette sotto sforzo Sotto pressione Con questo Lo taglio in due La verità non può essere tagliata in due È una E questi ancora una volta Stanno zitti E allora lui Taglia in due Ma di fatto Anche col gatto tagliato in due Sarebbe sempre uno Sempre un pezzo unico Oh signore Wow È da qui che poi è venuto il gatto Dentro la scatola Sì È loca nella bottiglia Ma Beh ma loro Conoscevano bene Lo zen Non scherzo E lo zen Ci si interroga Sul Da dove veniamo? No No È come per la morte Chi loro conoscevano lo zen Ragazzi Scusate Loro chi conoscevano lo zen? Chi si è occupato Della fisica quantista Ah sì? Perché? Ed altri Ergoland Noi stiamo Progetti Dico sempre noi In Poglare Ma Statt Ma Diciamo Purtroppo non sono ancora riuscito Quest'anno Perché voglio andare d'inverno Quindi aspetterò febbraio prossimo Ergoland È l'isola Dove è nata L'illuminazione Per la fisica quantistica No? Ed è un'isola Sperduta Nella Nei mari del nord Anche se è tedesca Sperduta Nei mari del nord Dove ci sono 40 abitanti No? In inverno E quindi La nostra idea La mia idea È di passare Un paio di mesi In questa isola Sperduta E Praticare Meditazione Poi Fare un docufilm Insomma In onore Della fisica quantistica Splendido Beh Anche un po' estremo Col freddo Sì volutamente Per Cioè D'estate Ci vanno le barche Di turisti Senza Nessun problema Cioè Senza nulla togliere i turisti Senza nulla togliere i turisti E Al sole Alla spiaggia Però l'aspetto del freddo L'aspetto che noi possiamo considerare Un po' estremo E che la nostra mente Certo lo considera un po' estremo È quello che fa un po' pulizia Di tutto il resto Ah sì Non c'è tanto da distrarsi Se non è estremo per te Non è estremo Dal proposito Suggerisco un film Che Matrix Che ho guardato dopo Matrix Mentre ero sull'aereo Che è un po' Il concetto del Se non è estremo per te Non è estremo Che è La Si chiama The Alpinist È un documentario Su Questo ragazzo Chissà in italiano come si dice Credo si chiami sempre The Alpinist L'ha visto? No Però ragazzi posso dire È molto zen Sì sì Ed è pazzesco La storia di questo Giovane ragazzo Di 25 anni Quando hanno iniziato a girare Ne aveva credo 23 22 23 Un talento Il Il Mesner Dei giorni nostri No Come si chiama quello lì D'italiano Trend Altissima Purissima Levissima Come cazzo si chiama Non mi ricordo Buongiorno l'hanno messo sopra il bonte bianco No No Dai Avete capito chi dico Eh Vediamo Porca puttana Ma è Mesner No Non è Mesner Sì sì Mesner Quello con la barba Il Tantino Ok ok Il Mesner Dei giorni nostri Questo Non solo pratica Free solo Nel documentario C'è anche quello di free solo Che parla di lui Questo pratica Free solo Da giovanissimo Ha scalato questa montagna E ha battuto il record di scalata Del tipo di free solo Che poi è tornato E ha battuto il record Che va a fare Ma lui l'ha battuto Senza rendersene conto E lui praticava Alpinismo Senza corde Col ghiaccio Pam 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 Misto Quindi In In montagne Che sono per metà Roccia e scali con le mani Per metà col ghiaccio E per metà con la neve Cioè Misto di Iper Iper coscienza e incoscienza Misto di tecniche E lui veramente scalava Con una serenità Perché ciò che lui provava Scalando Non riusciva a vivere la sensazione Mentre lo scalatore di free solo Prova la paura No Prova anche L'egoico Ovvero Il voler arrivare Per rivendicare la vetta Per dire Io l'ho fatto Quello lo fa Per farlo Ovviamente Cosa succede? Muore Veramente A 25 anni Muore Però effettivamente È la vita Meno sprecata Cioè Probabilmente La mia vita Ho sprecato più Ho sprecato più io La mia vita In 32 anni Che lui La sua In 25 Capite quello che voglio dire Se l'ha sfruttata Ha fatto esattamente ciò che lo faceva star bene E di conseguenza Ha seguito quello che Poteva vivere per fino ad 80 anni Non vivendo Ma ha deciso di vivere per 25 anni Le piace? Ti sembra abbastanza profondo? Beh abbastanza Avrei a dire alcune cose Ma comunque Beh vuole dire Dica Dica No no Assolutamente Però Non è che possiamo dire Che chi fa l'impiegato E vive fino a 90 anni Sprechi la vita Io sto dicendo che per lui Quella cosa lì Era perfetta Cioè Dico Io probabilmente L'impiegato È una vita incredibile E sfruttata al massimo Io non so se ho trovato una cosa Per la sua natura Che mi fa stare così bene Da dire Ci perderei la vita No in realtà sì Ce l'ho Ma diciamo che sia l'impiegato Che lo scalatore No ma io non ho detto niente Dell'impiegato Ma cosa volete? Non ho insultato l'impiegato No ho insultato io Scusate Cercavo di fare da ponte Non diventeranno certi più ricchi Del cimitero O se lo fossero Non sarà molto rilevante Che cosa? Di fronte alla livella Sì Ma nessuno dei due diventa Non c'è spreco In nessuno dei due No C'è chi parlava del fatto Che non hai altro Se non l'azione Il frutto dell'azione No Quindi C'è parità In realtà Nei due modi Sia quello dell'impiegato Che quello Ma lo sì Non ho messo Non ho fatto il paragone Se uno è sfruttato Adesso non perché tutti gli impiegati lo siano Ci mancherebbe Ma chi è sfruttato E dà la consapevolezza Di vivere in quel modo E per cause culturali Sociali Familiari Non può fare diversamente E' una bella pratica meditativa E' una bella pratica meditativa Ebbè certo Assolutamente Assolutamente Non riuscire a controllare Cioè lasciarsi andare Alla propria natura Se quel ragazzo Proprio non aveva Altre strade in mente O comunque Sì sì Ma questo è positivo Assolutamente Questo non vuol dire Che l'aspetto estremo Sia per forza Quello che ti conduce Anche se nello Zen si dice Se tu cammini sul Crinale di una montagna O sulla vetta di una montagna Ti appoggi con un bastone Per non cadere Ti tolgo anche il bastone Eh ma il tema Infatti qua Ricollegandomi al documentario E' che traspare Quanto per lui Non sia una cosa estrema Forse era proprio essenziale Tu vedi un ragazzo Di 25 anni Che ti racconta Quanto sia per lui Un'esperienza meditativa A tutti gli effetti Quindi moltissimi scalatori Si occupano di meditazione Come insomma Come tanti artisti Si si Musicisti Devo dire che Scrittori Il mondo delle scalate E' super affascinante Perché riesci a cogliere Più di altre cose Il motivo per il quale Stanno facendo quella cosa lì C'è stato uno scalatore Filippo Nardi si chiama Italiano Che si Si coglieva Che invece per lui Era proprio un'affermazione Di sé Di sé stesso In qualche Che non ci vedo niente di male Anche lui morto Ovviamente Quasi tutti hanno lo stesso finale In qualche modo E non c'è il segno Non me ne viene in mente uno Che non abbia fatto questa fine Eh no L'unico è Mesner L'unico è Mesner Che ha fatto cose serime Ma il fratello di Mesner Per esempio Invece è morto Nella Panga Mataparga Non mi viene il nome E vabbè Niente Volevo fare questo parere Mi domando una cosa Sul tema della fine Lei in questo momento Quindi Nonostante Si possa cercare Di vivere il presente Nel momento in cui Il presente diventa Anche la possibilità Di morire Quindi in quel momento Stai vivendo il presente Giusto? Sì Se io sto vivendo In una condizione In cui potrei morire Allora in quel momento Devo interrogarmi Sulla morte Ma diciamo Che l'interrogarsi Sulla morte Dipende dalla domanda Come sempre Allora Vivere il presente Intanto Bisogna comprendere Diciamo Ma io vivo il presente Allora domani Non mi occupo No Vivere il presente Vuol dire occuparsi Del passato Di quello che chiamiamo presente Anche se è già passato Mentre lo chiami E naturalmente Del futuro Quindi io pianifico Assolutamente Quello che accadrà domani Se accadrà Se non accadrà Non vedremo Certo Per cui occuparsi Del presente Vuol dire avere La chiarezza totale Passato Presente E futuro Non il contrario Chiaro Occuparsi del futuro Vuol dire avere la mente Solo proiettata Su come realizzare Quello che penso E quindi Non stai nel presente E neanche In quello che viene dal passato Il momento in cui Mi trovo davanti alla morte Certo che Cerco di evitare No Ma mettiamo Di morire Ma non mi pongo Nessun problema Di Oh che cosa succederò Andrò a incontrare il Buddha No Se devo morire No no Sono d'accordo Faccio un esempio teorico Proprio pragmatico A me è successo di Affrontare una situazione In cui Non dipendeva da me Se morivo meno Potevo Potevo morire Effettivamente E ho compreso Di non aver paura Della morte Idealmente Ma la cosa che Qui magari c'è una risposta Non lo so Che mi uccideva E lui lo sa Perché era con me Era Il fatto che i miei figli Non si ricordassero di me È l'unica roba Che mi mandava I pazzi Sì però Non ha niente a che fare Con la morte Ha a che fare Con la tua scomparsa Ma non con la morte Con la tua assenza Allora di fronte a questo E riguardo ai tuoi figli Anch'io dico Se morissi adesso Chi è che porta avanti Tutto quello che ho Quindi mi preoccupo di questo Ma non è Sulla base della morte Che quindi mi preoccupo di questo Non so se capisci Infatti tu stesso dicevi Non avevo paura della morte Avevo paura di quello che succedeva Agli altri Dopo la mia morte Non agli altri Avevo Il rammarico Il rammarico Che le persone A cui tengo di più Non Se ricordassero Che non gli avessi dato abbastanza Per dargli un ricordo vivido di me Sì Ma quello è nel presente Quindi va bene È normale questo rammarico Ok Cioè è più che naturale Immagino che dopo Avrai o rivisto La tua vita O il rapporto Con i tuoi figli Sulla base di questa idea Che forse Beh In realtà È stato un rammarico Sì Cioè in realtà Credo che per essere arrivato A quel ragionamento Già la stessi vivendo In quel modo No Semplicemente lì È una questione di tempo Cioè La capacità mnemonica Di un bambino Arriva fino Cioè io ho ricordi Dai sei anni in poi Credo forse Sì Sì ma non è solo una questione Di memoria Sì sì Beh anche di attitudine Con cui la fronti Di attitudine E poi Rimane Nella Nella condizione Diciamo No Della nostra mente O degli stati di coscienza La memoria Di quando si è piccoli Fino a una certa età Non c'è È volatile Ma quello che è L'imprinting Che ricevi dai genitori Dall'ambiente E da tutto quello Nei primi mesi Soprattutto nei primi mesi E nei primissimi anni Diventa una formazione Che può essere positiva O meno positiva Certo Quindi anche se non hanno memoria Di quello che hanno fatto Alcune cose Non dicono Alcune cose Mi ricordo Che è successo quello No tutto Perché Crescono sulla base Di quello che è Le fondamenta Che hai messo Assolutamente Certo Cosa terribile Che mi aveva detto Di fare il mio terapista Era di fare un video Così si sarebbero ricordati Avrebbero visto Io avrei voluto farlo E mia moglie Mi ha detto di no Anche lui mi ha detto di no Perché se Vedi Sì sì Mi correggerò Non eri morto Ma a grandi linee Parla di questo La scuola tibetana Del buddismo Nel libro dei morti Sì L'immagine di sé Come questa viene degradata Dopo la morte Il bardotol Si chiama Il bardotol E tutto il passaggio Che si ha Da quando si è morti Bisogna aspettare tre giorni Poi ci sono dei passaggi Questo è un po' Il problema In Italia Perché la legislazione Non prevede Cioè Ce la puoi raccontare bene È interessante questa cosa Cioè La legislazione No la legislazione Ho capito Cosa prevederebbe di fare Questa In Italia C'è un numero di ore Dopodiché Il cadavere E in teoria I tibetani Cosa farebbero? Almeno tre giorni Deve rimanere In quella condizione E attraverso Una ritualità Ed una pratica Perché L'energia Non c'è anima Ma un certo tipo di energia No? Trasmigri Perché come lo credono Nella rincarnazione Però in un paese Con la libertà di culto Dovrebbero permettere Ovviamente con le cose sanitarie A posto Una volta si faceva Il veglione da noi Eh sì Certo E si piangeva In America In America raga Ho visto il funerale Di un rapper Imbalsamato Ah sì ho visto L'hai visto In una discoteca In una discoteca Raga è la roba più triste Tra parentesi No la cosa che ho pensato Vedendo il cadavere Di questa persona In una discoteca Con la gente che balla È Cazzo Ecco in quel caso L'abito fa il monaco C'era vestito Veramente male Era vestito Era vestito Con una maglietta Tipo di palmenge Che vuole morire Eh beh ma lui Si vestiva così Probabilmente Vabbè ma dai Non era uno Da giacca e cravatta Cazzo sei morto Vestiti da morto Era il suo abito Era il suo abito No dai Era il suo modo di vestire Con le collane Con i diamanti Anche perché lui Non aveva scelta Era la sua vestita No dai Terribile O la scelti lui Vestiti No ma non ho reputato Di cattivo gusto Portare il cadavere Perché tipo Gigi Allen Ha avuto uno dei funerali Più belli del mondo No proprio i gusti Del cadavere Contesti quelli Sì 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 proprio il gusto Del cadavere Cioè proprio Di cattivo gusto Ma si vestiva così Ma no perché probabilmente Non si è vestito lui È stato vestito Io ho percepito Era morto Io ho percepito Che l'aveva vestito qualcuno Perché lui non si sarebbe vestito così Ma sì che si sarebbe vestito No secondo me no Ma secondo me lo voleva Come dispetto l'hanno vestito Sì L'hanno portato pure in discoteca L'hanno vestito Lui era uno De giacca e cravatta E non l'ha mai stato In una discoteca L'hanno portato In una discoteca Non stava simpatico Era una persona così sobria Vabbè ragazzi Con me Sì che ci sarebbe Il mondo Ma poi ci sarebbe Tanto da dire Effettivamente Beh insomma Sullo zen Come aspetto dottrinale Può darsi Ma ci interessa meno Ci sarebbe tanto da dire Su quello che si fa oggi Per esempio Quello che dicevo prima Come spoiler E su questo villaggio Che stiamo iniziando A costruire Che sarà Solo per giovani artisti Dove? Come la casa di artisti Dove noi abbiamo Il monastero a Berceto Dov'è Berceto? Berceto sul passo della Cisa Per andare alla Spezia Quindi Liguria? Per andare a Cinque Terre No È tra l'Emilia e la Toscana Ah tra l'Emilia È un bel posto Bellissimo Sì sì A 700 metri E cosa fai? Se non sei artista Non puoi entrare? No Certo che puoi entrare Ah ok Però Noi ospiteremo Giovani Con progetti Naturalmente Le posso fare una domanda Secondo lei Per essere artisti Bisogna scrivere tutti i giorni? Dipende Se uno suona E non compone musica No Basta suonare E se uno non suona? Se uno non suona L'arte è intesa come Espressione del proprio sé Lo zen punta molto Sull'arte Perché quasi tutti I grandi maestri Erano degli artisti Soprattutto calligrafi Perché Questa era la principale arte Parte di tramandare Sì no È l'arte di esprimere Certo Che è molto importante Col gesto E secondo lei Scrivevano tutti i giorni I calligrafi Ma sì Abbastanza Sì Ognuno il suo Beh allora io Per chiudere Farei una domanda di rito Che oggi mi sento di fare Non so perché Perché C'è una buona sintonia Col maestro E quindi voglio fare una domanda Che io faccio E diciamo è un po' Oh signore La domanda ciliegina Che faccio La domanda ciliegina Vuoi fare quella La domanda Sotto spirito Vuole chiedere se fa sesso No 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 Non dirlo Non rompermi Dai fammi arrivare Fammi arrivare Non voglio Ah vuoi che sia una cosa Sì 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 È una domanda Che faccio sempre Ad alcuni ospiti Con cui entro in sintonia Quindi mi sento di fargliela Grazie E la domanda è Ma essere un maestro buddista Fa scopare di più? Stiamo parlando dello zen? Sì Assolutamente Sì Lei è mia figlia Ah ok È proprio la dimostrazione fisica E pratica Vedi ragazzi Vedi? Bellissimo E maestro Possiamo trovarla Su Instagram Pubblica dei gran libri Io me li leggo raga C'è anche una dedica mi sa C'è? Sì Ok Sai che non riesco No 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 Riesci a leggere La telegrafia? Lascia andare Lascia andare E verrà O verrà E trascinare Bello Ah bello Ma quel detto Ah no Voglio chiedere due cose Prima di andare Quel detto Dei cadaveri Aspetta Il cadavere del tuo nemico sul fiume È una cosa buddista Ma insomma Si Taoyista Viene usata anche nel buddismo Ma non c'è da aspettare nessuno Cioè è vero che si sviluppa la pazienza Questo sì Ma è sempre in base alle circostanze Certo In alcuni momenti Se stai a aspettare qualcosa Sei già morto Perdi tempo E invece volevo chiedere una cosa Io quando ero giovane Che ero un po' complottista Mi racconta Non mi ricordo neanche Che cazzo me l'ha raccontata Sta roba Di Che c'è un sasso Non so se è vero C'è un sasso in Tibet Con una mano Impressa Gli dice qualcosa Questa cosa Che c'era questo maestro buddista Che diceva all'allievo Devi pensare che Il sasso non è un sasso E il maestro mette la mano E lascia l'impronta E esiste questo sasso No Io sono rimasto La spada di Excalibur Ok Ok niente Ok niente Questa la tagliamo Che non si trovi niente E magari hai lasciato l'orma Per quante volte l'ha fatto Esatto Per i giorni A voglia Non nel mio monastero Perché è piuttosto recente Da 80 anni Non il mio Ma quello dove io ho vissuto In Giappone A 80 anni Quindi no Ma in altri monasteri Dove andavo A praticare ritiri Anche di una settimana Invece che sono del 1500 Per terra Ci sono le pietre di basalto Che come sapete È più dura Del granito E sono consumate Dal passaggio Per erosione Assoluto Wabi-sabi Si dice Cioè Il limite dell'essenziale Ci sono architetti Che hanno E che usano Le piacciono i Gundam Cosa sono? I Gundam Sono Giapponesi Sono giapponesi Sono quei robot Ah sì sì Che per loro Sono come la Gioconda Sì sì Cioè adesso Almeno io la vivo così Giappone negli anni 80 Ha avuto un'esplosione Mondiale È bello perché è rimasto Un po' negli anni 80 Cioè almeno Tokyo È un po' negli anni 80 Il fascino Sì Per chi voi Siete stati in Giappone Recentemente Sicuramente è diverso Io sono stato A metà degli anni 80 Diciamo Dall'84 All'88 Ed era come essere qui Negli anni 50 Uguale In pieno boom Ah ok Sì 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 Stava creando Tutto Stava uscendo Tutto Però alcune cose Erano degli anni 50 Infatti io le guardavo Dico ma che strano Saranno Vintage No no Perché appena comprato Poi sono Dopo Avanti Indietro Così E ogni anno che tornavo Negli anni 90 C'era un cambiamento Abissale Abissale E il primo Sì Io parlo di Tokyo Soprattutto E il primo grande cambiamento Perché Tutti gli anni che sono rimasto io Tutti attraversavano Sulle strisce pedonali Composti Semaforino Tutti zitti Silenziosi No E questo fino L'88 89 Quando sono venuto via Sono tornato Diverse volte Ma mi sono reso conto Nei primissimi anni 90 Anno 91 Che i ragazzi Invece che passare Sulle strisce pedonali Tagliavano la via E lì ho visto Che il Giappone Era cambiato È simbolico Sì molto I giapponesi Sono veramente L'opposto degli italiani In molti sensi Una cultura diversa È una cultura diversa E quando c'ero io C'erano persone Ma ancora adesso ci sono Però è diverso Il sistema Che stavano dentro Dentro un ascensore Tutto il giorno Di 8 piani 10 piani Soltanto schiacciare Esistono anche a New York Ne ho visto una New York Con gli occhi bassi Così Aishima Senna Aishima Senna Aishima Ore e ore Grande meditazione Grande Molto Ed è lì che nasce la meditazione Etica lavorativa Molto forte I giapponesi Vabbè Bello Grazie Teutsugen Tetsugen Tetsugen Scusate Ringraziamo il maestro Teutsugen Ringraziamo il maestro Teutsugen Ringraziamo il maestro Tetsugen Per essere stato con noi A Muschio Selvaggio Ad una prossima puntata Muschio Savage Grazie Grazie mille Grazie a voi